L'aumento degli oggetti connessi alla nostra vita, sempre più spesso online, ci rendono però maggiormente esposti a possibili attacchi informatici. Questi ultimi nel 2022 in Italia sono saliti del 300%, dice uno studio appena pubblicato. Francesco Di Mario ha intervistato per noi Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale. Vediamo. Direttore, l'Italia è pronta ad affrontare i nuovi attacchi informatici. A che punto è il nostro sistema di difesa? In questi giorni noi abbiamo avuto diversi attacchi di IDOS, li abbiamo continuativamente, come altri paesi europei. Sono attacchi non gravi ma contro i quali non sempre siamo preparati a rispondere adeguatamente perché non ci sono dei filtri adeguati ovunque che ci possa mettere a riparo anche da questo attacco che non è gravissimo nella sostanza. Anzi, è di lieve entità se non lievissima entità. Quindi significa che la postura della sicurezza cibernetica del paese non ha ancora raggiunto un grado di maturità e dovrà raggiungerlo abbastanza velocemente. Il ruolo dell'Agenzia è cruciale nella cyber security, ma quanto contano anche i comportamenti dei cittadini e il fatto che abbiamo un tessuto di piccole e medie imprese? Deve essere educato il paese alla cyber sicurezza, educato in tutte le sue articolazioni. Noi abbiamo un'economia che vive e si sviluppa attraverso le piccole e medie imprese che devono naturalmente proteggere i propri siti adeguatamente perché la vulnerabilità di questi soggetti piccoli potrebbe riverberare sulla vulnerabilità dei soggetti grandi in qualche modo perché siamo tutti interconnessi. L'attenzione alla cyber security è entrata anche nel nuovo codice degli appalti. In quali termini? Le amministrazioni, soprattutto le amministrazioni, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza che dovranno acquistare prodotti, servizi e beni informatici di alta tecnologia, dovranno valorizzare, cioè essere attenti al rapporto tra costo e qualità riguardo agli aspetti di protezione cibernetica dei sistemi informatici.